Francesco, si sono appena incontrati Morgan e Simona qua nei camerini, un Morgan in versione Jim Morrison questa sera, stai benissimo vero Simona? Grazie, è stupendo. Bellissimo. Thank you very much. E Simona invece, Lady in Black, sempre molto elegante, ma ecco, è arrivato anche Mika, il re dell'eleganza, però... Bellissima. Grazie. Scambio di complimenti. Diciamo che Simona, di solito i calciatori dicono sempre, da qui in poi sono tutte finali, nel caso di X Factor è vero, da oggi in poi sono tutte finali. Sì, assolutamente, siamo un po' alla, diciamo, all'ultima partita prima della grande finale di Champions, quindi siamo contenti e anche desiderosi che i nostri ragazzi vada avanti. Mika, che cosa stai dicendo a Morgan? Diccelo. Niente, niente, una cosa segreta. Diccelo Morgan. Elio si sta preparando. Stasera? No, si sta preparando. Un sostituto. Presente. Dottore Andrea. Ciao Andrea. Ciao. Come sarà questa puntata, Andrea? Splendida. Elio vestito da Robbie Williams. Elio si sta preparando perché ci sarà una sorpresa all'inizio della puntata. Simona, tu sei quella con Elio che rischia un po' di più. Sì? Con un solo concorrente. Ah sì, sì, no, sono tre veramente, però insomma vedremo, ci batteremo con il cuore, il solito cuore degli Apescape! Ehi, voi due che ne avete due, fatevi l'in bocca al lupo sportivamente. Gimo? Devo fare l'in bocca al lupo a Mika. Vedi tu? Perché? Perché a me? Lupo. Crepi lupo Morgan. No, ci possono i lupi, non vogliamo, cioè, mi piace. Va bene, va bene, Francesco, a te. Allora, tra gli ospiti della sera...